Marco Finocchio, presidente dell'Associazione Labrusso in Agris, torna a chiedere maggiore sicurezza in agricoltura dopo la morte di un 58enne a Ripa Tiatina sabato scorso, mentre era a lavoro nei campi. Finocchio, presidente dell'Associazione, che ha oltre 220 agricoltori e elevatori iscritti, parla di ennesima tragedia sul lavoro. Sono troppi gli incidenti con i trattori registrati in Italia e Labrusso non fa eccezione. È difficile capire il motivo per cui sia successo l'incidente. Come dicevo prima, praticamente i terreni sono scoscesi e una minima distrazione può succedere un incidente grave. Poi magari in alcuni casi sono dei mezzi abbastanza datati dove un minimo guasto meccanico può succedere un incidente. Questo non deve succedere più e quindi penso che le istituzioni debbano aiutare questi agricoltori pur perché l'agricoltura non è solo un settore che riguarda economicamente, ma è anche un settore che custodisce il territorio. Questi terreni, se non ci fossimo noi che li coltiveremo, sarebbero pieni di sterpagli. In questo caso le istituzioni dovrebbero un pochettino cambiare la metodologia di aiuto per questi agricoltori che ogni giorno rischiano la vita con i propri mezzi e i propri campi. Quindi bisogna dare contributi a chi veramente ha bisogno e chi veramente vuole mettersi a norma e chi veramente vuole lavorare in sicurezza perché questo lavoro lo vuole fare con passione e soprattutto anche con professionalità. Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle aziende, c'è l'Inail che praticamente fa dei bandi per l'ammodernamento delle macchine, quindi per la messa in sicurezza. C'è l'Ismea che anch'essa fa dei bandi per aiutare gli agricoltori ad acquistare nuovi mezzi, quindi per essere più sicuri che però questi bandi danno praticamente la priorità con il famoso click day, cioè praticamente con il dito più veloce. Quindi chi prima riesce a presentare la domanda prende il contributo, invece magari un'azienda che ritarda nel poter, ma si parla di secondi, non è che parliamo di giornate, nella presentazione delle domande non acceda a questi contributi. Secondo me questa è una cosa che bisogna cambiare perché i contributi bisogna darli a chi ne ha bisogno e valutando il rischio dell'azienda e quindi il rischio che l'agricoltore può avere, quindi la valutazione del rischio di ogni singola azienda e non semplicemente con il click day.